Unisciti ai più grandi nomi del poker, nel più grande gioco del momento. Qualificati su PokerStars.it e vola in America. Ti daremo 100.000 dollari e tutto quello che vinci sarà tuo. Conquista il tuo posto per giocare The Big Game gratuitamente solo su PokerStars.it, il più grande sito di poker in Italia.